Ciao raga, è passato forse anche fin troppo tempo dall'ultima volta che ho registrato un video ASMR, però ho fatto una caterpa di cose tanto piacevoli, tanto rilassanti, ma soprattutto molto intense. Quello che vi dirò riguarderà l'università di recente, ho sostenuto una materia universitaria e quindi a MoMA Way si va avanti verso la carriera università dell'università o comunque universitaria. Inoltre ho anche fatto un corso di Adobe o Adobe, come si dice, whatever, e quindi sono stato stramaledettamente impegnato. Inoltre tutto questo background non sarà più il background che vedrete di solito, ma perché mi trasferirò con la mia ragazza, con la mia fidanzata, con la mia fiancée a casa sua e stiamo già prendendo le misure per creare un background e tutto quello che serve per streamare e per lavorare. Visto che entrambi lavoriamo con tutti i software di Adobe, questa è una cosa molto figa devo dire. Sono tornato con questo close up ASMR, extra close up e in questo micro video cercherò proprio di intensificare tantissimo tutto quello che vi è mancato per tutto questo periodo. Ah, ultimo recap della prossima settimana, spero, tornerò a streamare sotto consiglio di uno streamer che ho incontrato ieri sera ad una festa, ad una pool party, però era semplicemente una festa in vicina, nulla di che, nulla di troppo. E quindi, già ci siamo messi un po' a parlottare per il fatto di fare delle live insieme, ma delle live IRL. Tuttavia, adesso, passo proprio a voi dopo avervi descritto il mio ragazzo. Per tanto, mettete il mio ragazzo e rilassatevi nel miglior modo possibile. Dunque, da quanto tempo non usavo questo come trigger? Questo secondo me rappresenta la vera essenza dell'ASMR. Quello super, super intenso, profondo e carismatico. Assolutamente. Perché è un trigger visivo. E quindi, i trigger visivi possono aiutare tantissimo a dormire. Tanto quanto la voce che si può ascoltare all'orecchio. Vi racconto una perla. Vi racconto una perla. L'altra sera ero con la mia fidanzata. Le ho fatto un whispering molto, molto, molto soft. All'orecchio. All'orecchio si è addormentata. Istante. Quindi, a quanto pare, il whispering aiuta veramente tanto. aiuta tutti a poter dormire. Quindi, di base, è una cosa fantastica. aiutare aiutare a dormire e aiutare a provare del formicolio super duper profondo. Il formicolio è la base dell'ASMR. Infatti, cerco sempre di creare quella base di formicolio che può, in qualche modo, essere sempre presente. in qualsiasi video io faccio, ma anche per poter garantire una bella giornata a voi che siete gli ascoltatori. Dunque, dopo questa fase di personal attention, aumentiamo un po' il volume. ma, dei trigger. Nulla di che. Ma, sarà un trigger che già conoscete. Per forza lo conoscete. E' uno dei must nel mio canale. ed ecco il must. Versione ultra trigger. proceder. Per il mio canale. Grazie a tutti. E dunque il relax è proprio qui, è proprio qui dietro, nulla da dire. E tra l'altro quanto possano mancare i mouth sounds dopo il whispering ear to ear con dei trigger. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma ogni tanto qualche soffermic ci può stare. Scratch, scratch, scratch e ancora scratch come intercalare di questo trigger. Comunque non vedo l'ora di trasferirmi completamente a casa della mia fidanzata. Assurdamente. E adesso andiamo con un altro trigger leggermente diverso. Però può essere molto interessante. Anche se ho propria voglia di creare un whispering ear to ear. per stimolare il relax totale attraverso il mio whispering. poiché i sussurri che creo hanno come obiettivo finale. quello di stendere completamente l'ascoltatore. Quello di stendere completamente l'ascoltatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tickle 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 E spero che comunque questo monte ASMR sia di tuo gradimento. e 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 in questo momento il trigger che volevo fare lo farò la prossima volta se volete passare ad ascoltare qualche trigger nuovo o anche qualche trigger old school che qua li fanno sempre bene garantito e dico 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 Oh, wait a sec I'm gonna go But I'm gonna go The tongue click tickle, tickle, tickle tickle, 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 tickle tickle, tickle, tickle Spero comunque che voi stiate bene durante questa calda estate perché sì, c'è assolutamente un'estate bollente però insieme si può andare avanti assolutamente dunque riusciremo a sopravvivere a questi 29 gradi per adesso però noti se mai l'estate è appena iniziata quindi vi auguro di passare l'estate al meglio di iniziare qualche serie tipo un film e di godervi tutta l'essenza dell'estate pertanto vi auguro la buonanotte e vi auguro di divertirvi buonanotte cari buonanotte 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 buonanotte